Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti, e mai come oggi, forza Juventus, siamo alla vigilia di una partita molto, molto, molto importante contro l'Alastia, in campionato, in Serie A, in trasferta, all'andata, credo che sia stata quella che mi è piaciuta di più in assoluto delle partite di questa stagione, in assoluto, mi è veramente gasato l'atteggiamento della Juventus, la pressione alta che veniva programmata sui giocatori della Lazio, e credo che sarà necessario provare a riproporre qualcosa di simile anche domani per un motivo, lo stesso Tudor va uomo su uomo, e se noi non ci mettiamo lo stesso grado di intensità diventa complicato uscirne vivi, contro queste squadre qui se non giochi in maniera aggressiva secondo me è sempre un gran bel problema, quindi la Juventus deve cercare di fare una partita diversa rispetto a quelle che ha fatto nella prima parte, anzi nella seconda parte della stagione, da Sassuolo in poi per intenderci. Ho un contenuto da portarvi, è un contenuto che vi porterò comunque nella giornata di domani, ed è un contenuto un po' motivazionale, più che altro, perché in questo momento abbiamo necessità di passare da queste robe qui. Punto squadra, la squadra è tornata bene, chi è rimasto si è allenato bene, tra quelli che sono tornati alcuni hanno raggiunto l'obiettivo dell'europeo come Scesni, tra l'altro protagonista con rigore parato che porta la Polonia all'europeo, e gli altri invece quasi tutti hanno fatto degli amichevoli. Ora, da domani, parte il rush finale di questi 55 giorni che porteranno a fine maggio. Parola chiave è rush finale, perché l'ha ripetuto più volte, sono davvero praticamente due mesi, due mesi tosti che attendono la Juventus, due mesi che possono diventare belli, possono diventare brutti, due mesi che a partire da domani devono darci un'indicazione di dove sta andando la Juventus, perché se dal punto di vista del rendimento nella prima parte della stagione si erano andati bene, sta roba è francamente inaccettabile. Ealing bene in nazionale, com'è il suo percorso di crescita? Elegri dice, Ealing ha giocato molto quest'anno, ha avuto i momenti dove ha giocato meno, ma è sempre stato molto considerato. Ecco qua, non sono tanto d'accordo, in realtà ho portato proprio l'altro giorno un video in cui parlavo anche del minutaggio dei giovani, sulla crescita dei giovani, dura 30 minuti, è un video secondo me anche molto interessante, per alcuni potrebbe essere noioso, per altri molto interessante, io almeno lo considero a totale, perché se no non ve l'avrei portato, per me è molto interessante. Ve lo lascio qui sopra nelle schede, così potete andarvi a spulciare anche le statistiche di tutti i giocatori nati dal 2001 in avanti per quanto riguarda la Juventus, la valorizzazione di quello che è il settore giovanile della Juve. Sta facendo un percorso di crescita come gli altri e sono molto contento. Ken, perché domani dovrebbe partire titolare, anzi partirà titolare, l'ha confermato anche Allegri, in seguito alla squalifica di Vlaovic e a Milik che è infortunato. Mi aspetto molto all'obiettivo di fare bene per guadagnarsi un posto per l'europeo, doveva andare via, è rimasto, si è messo a posto fisicamente, è tanto che non gioca, farà una buona partita e domani parte titolare. Quindi domani Ken dal primo minuto, vedremo con chi ha al suo fianco, Allegri ha fatto un po' di pretattica sul nome della seconda punta tra Chiesa e Ildis. Io non credo che Allegri abbia intenzione di schierare tutti e due, però magari c'è l'allegrata e la volontà di fare una partita con un'inversione di tendenza rispetto alle ultime, però ripeto, non credo che sia così, anche perché ultima post partita di Juve Genua è stata proprio una sorta di critica molto accesa con Teotino, giornalista di Sky, che parlava proprio del tridente. Quindi sarebbe anche abbastanza particolare dopo questa uscita mediatica e comunicativa, vedere la scelta del tridente, mi farebbe un po' sorridere perlomeno. Poi c'è una domanda che è stata particolarmente interessante per me per un movimento del corpo in particolare, perché ad Allegri chiedono la sua posizione se era contento della società che pubblicamente gli aveva rinnovato la fiducia e quando sente alla parola rinnovo, Allegri fa questo. Muove il sopracciglio, uno solo, in maniera cellottiana, proprio è stato un tic nervoso del suo volto. Ora, non riesco a portarvi in questo istante la clip, magari lo farò sulle storie di Instagram, su un TikTok o robe del genere, però concentratevi. Quando il giornalista chiede ad Allegri, mister, la fiducia rinnovata pubblicamente è contento, la parola rinnovo c'è questo tic di Allegri nel sopracciglio che secondo me è stato molto emblematico e magari ve lo farò vedere appunto in un video un po' più corto che potrò anche pubblicare qui sul canale YouTube. Datevelo a vedere, datemi anche un po' la vostra considerazione, la vostra impressione, io non sono un esperto di linguaggi del corpo, però mi ha fatto almeno accendere un campanello del tipo ok rinnovo una parola chiave, lo fa perché c'è stata una proposta, perché se l'aspetta, perché non sta arrivando, non so dove si vada a parare, però sicuramente quella parola ha avuto una sorta di effetto trigger su Massimiliano Allegri e su quello che è stato appunto il suo viso e Allegri giustamente dà la risposta che ci aspettavamo, in questo momento non va ad affrontare il discorso relativo al suo futuro e tutte queste robe qui e dice in questo momento la cosa più importante è il finale di stagione, purtroppo abbiamo buttato tanti punti di vantaggio e in questo momento serve essere realisti, abbiamo fatto 7 punti in 8 partite e solo 13 nel ritorno, abbiamo 9 partite per consolidare una posizione dei tre posti in Champions rimasti, poi c'è la Coppa Italia a giocare, martedì una partita importante con la Lazio, dobbiamo pensare esclusivamente a questo. Sono contento che mi abbia rinnovato la fiducia ma su questo non avevo dubbi, stiamo continuando, stiamo lavorando e staranno, stiamo lavorando e staranno programmando il futuro, ma in questo momento è importante e fondamentale rimanere concentrati sul presente. Domani partirà il rush finale, sappiamo che sarà molto difficile, con molti scontri retti e abbiamo perso tanti punti sulle inseguitrici. Ricordo a tutti di andare a vedere quel piccolo tic all'occhio, alla sopracciglia di Massimiliano Allegri e fatemi sapere un po' la vostra impressione qui sotto. Nei commenti, fino adesso non si è parlato di Tudor, della Lazio ed è la cosa che mi dispiace di più perché se ne è parlato soltanto nel finale, in maniera anche molto approssimativa. Serviranno testa o gambe? Allegri dice, nel calcio si vive anche di questi momenti, dobbiamo rialzarci e fare dei risultati che ci porteranno a completare l'obiettivo societario di entrare in Champions. I ragazzi devono giocare serene in totale tranquillità, abbiamo fatto 59 punti ma distribuiti male, 46 andate e solo 13 al ritorno, però la squadra non ha da rimproverare niente. Quando mancano i risultati serve a fare qualcosina in più per ritrovare quell'entusiasmo che serve per affrontare il finale di stagione. Per la crescita sono cresciuti molti giovani, sono cresciuti anche singolarmente gli anziani, c'è entusiasmo e voglia di lavorare, la squadra non ha mai smesso di fare bene. Poi la percezione che è andata abbiamo fatto delle partite dove abbiamo vinto ma giocato come le ultime, dove non siamo riusciti a fare risultato, su questo sono d'accordo. Non sono scusanti ma devono essere uno stimolo per far bene nelle ultime partite. Quindi Allegri cerca di fare una sorta di reset, anche se ovviamente il reset non lo puoi fare, però è un reset di ok, abbiamo fatto bene, poi abbiamo fatto male, adesso c'è il rush finale, sono due mesi, avete sempre lavorato bene, continuate a lavorare così i risultati arriveranno. Questo è un po' il messaggio che sta cercando di far passare Allegri. Lo stop è servito a riflettere sugli errori e qua mi ha fatto molto sorridere perché Allegri dice il calcio è difficile a spiegare, noi lavoriamo e cerchiamo di vedere gli errori che facciamo, quindi significa che loro vanno ad analizzare questi errori e vanno a identificarli. Ma in questo momento spiegare non serve a niente, quindi non serve spiegare quali sono stati questi errori. Bisogna lavorare sugli errori, non li dobbiamo spiegare, li abbiamo evituiti, dobbiamo lavorarci ma non li dobbiamo dire. Mi avrebbe fatto piacere sentire almeno la versione di Allegri di quali sono stati effettivamente questi errori, perché ci sono mille chiavi di lettura differenti, però non ho voluto spiegare, in questo momento spiegare non serve a niente. Ok. Soprattutto migliorare. Nel calcio conta quando fai risultati, noi non stiamo facendo risultati, li dobbiamo fare. Bisogna cercare di invertire la tendenza e lo possiamo fare soltanto noi. 500 partite in Serie A, il bilancio del passato e l'ipotesi di raggiungere anche mazzone tra pattoni che sono mostri sacri. Allegri dice, cosa vedo nel mio futuro? La voglia, l'amore, la passione che ho per questo sport che ormai frequento da 47 anni, da bambino, quando ero bambino io si iniziavo a giocare a 10 anni, adesso magari a 5-6. Sto diventando diversamente giovani e questo mi fa piacere. Poi sono contento di quello che ho fatto e passato, ma allo stesso tempo ho tanta voglia di divertirmi ancora, lavorare e stare sui campi, altrimenti mi annoierei. Importante è pensare a domani a questi 55 giorni, da vivere con grande entusiasmo e voglia e soprattutto con due obiettivi importanti da raggiungere che devono essere di stimolo a tutti noi. Quindi Allegri sapete come fa, no? Quando lui vuole passare un certo tipo di messaggio, anche nelle domande in cui non c'entrano niente lo infila. Però sono contento che sia questo il messaggio da passare. O ragazzi sono 55 giorni, o ragazzi bisogna invertire la tendenza, o ragazzi stiamo facendo male, perché per la prima volta sento Allegri che dice stiamo facendo male e non va a prendere il bicchiere ben sto pieno, quando in realtà il bicchiere è quasi vuoto ormai. Quindi mi fa piacere questa inversione di tendenza dal punto di vista comunicativo, prendere atto che c'è un problema, perché come vi dicevo l'altro giorno mi sembrava il meme del cane che sta bevendo il latte dentro la casa che brucia e dice va tutto bene. No, non va tutto bene, quindi bisogna prendere consapevolezza degli errori, del momento, della crisi, delle difficoltà, se no non se ne esce. E per la prima volta almeno Allegri sta facendo passare il messaggio che ok, le cose non stanno andando bene, è inutile girarci intorno, il punto guadagnato sul Bologna, tutte queste stronzate, perdonatemi ma queste sono stronzate, che non si possono sentire, vedere, ascoltare in questo momento qui, vanno prese e messe da parte e lo stesso Allegri ce lo sta dimostrando con questo cambio di comunicazione. Non so se è una cosa che ha scelto lui, se è una cosa imposta dalla Juventus, non ne ho idea, però sono contento che adesso siano questi i messaggi che vengano passati, assolutamente. E poi, vabbè, non poteva mai mancare la domanda sull'uovo di Pasqua. Mister, il panettone lo mangia ad ottobre in anticipo? Anche l'uovo l'ha mangiato in anticipo? Allegri dice, ma non so cosa ci sarà dentro l'uovo di Lazio Juve, spero non una sorpresa. Oddio, in realtà in questo momento potrebbe essere anche una sorpresa vincere con la Lazio, quindi chissà. L'uovo di Pasqua lo mangio prima perché sono amante della cioccolata, lo mangio tutti i giorni. Queste sono le vere cose che voglio ascoltare in conferenza stampa. Non sentire parlare della partita, della lastra di Tudor che ha cambiato allenatore, ma chi se ne frega la cioccolata, la mangio tutti i giorni. Questo, dopo dieci minuti di video che sto facendo e dopo quindici minuti di conferenza stampa, il nome Tudor non era ancora venuto fuori, si ha parlato prima della cioccolata di Tudor. Queste sono le cose belle, queste cose. Indipendentemente da cosa sarà domani, troveremo un elastico che ha cambiato allenatore. Eccoci qua, finalmente. Tudor prepara le squadre molto aggressive. Punto. Come Calzona? Bah, Calzona ha lavorato tanti anni con Sarri, quindi sarà come Sarri. Dovrà essere una partita, una bella partita, dove dobbiamo fare bene sotto tutti i punti di vista. È un bel test e dovrà essere un buon punto d'inizio per quello che saranno le partite future. Stop. E allora giustamente dicono, attaccanti al fianco di Ken e come si prepara con la lasta di Tudor? E Allegri dice, cambiano allenatore e quindi avranno grandi stimoli e partiranno forti. Cercheranno di tornare alla vittoria, noi siamo pronti a controbattere, dovemo giocare bene tecnicamente. Questo è quello che si dice sulla lasta di Tudor. Stop. Chiesa e Ildis stanno bene, sono tornati dai nazionali e sono importanti. In questo finale tra loro è Vlaovic che tornerà dalla squalifica e se spera Milik al più presto l'infortunio avremo un parco attaccanti che dovrà consentire i gol che ci permetteranno di raggiungere gli obiettivi. A tal proposito, con Vlaovic e Milik domani fuori, so che stanno ragionando su pescare qualche giocatore, qualche attaccante dalla next gen, mi farebbe piacere vedere Cerri convocato che ho conosciuto pochi giorni fa in occasione di Juventus Roma di YouTuber League. Mi piacerebbe dire di avergli portato bene con convocazione e chissà magari anche gol vittoria. È un armadio ragazzi, io sono 1,75 m, sono 90 kg praticamente, vesto tra la L, insomma. E lui, il doppio di me di larghezza, il doppio di me di altezza, nella foto sembrava un Lillipuzziano, ma io sono alto come la media italiana, 1,75, lui che è un gigante. Quindi buttargli una palla sulla testa sarebbe qualcosa di incredibile. Non ho un'idea di quanto, di dove trovi da vestire qualcosa di impressionante. Quindi in bocca al lupo a Cerri mi piacerebbe molto la sua convocazione qualche minuto, dato che ha giocato sei minuti in questa stagione, è stato buttato nella mischia nel finale. E poi basta. Quota Champions, una domanda interessante, perché di quota Champions del momento non si parlava. Io ho ancora qui il mio foglio, il mio fogliettino, in cui vi parlo dei punti. Io vi dicevo che secondo me l'Aventus chiuderà a 74 punti e avevo pronosticato un pareggio con l'Atalanta, un pareggio con Genoa, ed è andato effettivamente così, ma tre punti con l'Alasio. E ora questi tre punti con l'Alasio mi sembrano un po' più complicati, anche perché era ancora l'Alasio di Sarri quando era stato pronosticato, quindi immaginavo che sfruttando l'ampiezza si potesse provare in un modo o nell'altro, portarla a casa, è un po' più complicato. Però Allegri dice, quota Champions al momento diventa 70 punti. Ripeto, io ne avevo pronosticati 74. Poi vediamo, ci sono tanti scontri diretti, dobbiamo pensare a fare punti. 59 non bastano, quindi un po' di punti vanno fatti. Poi non è una questione di punti, ma di obiettivi finalmente, finalmente, che sono quelli di tornare a vincere. Una vittoria ti fa vedere le cose in maniera diversa, perché se tu fai 9 punti, da qui alla fine, o ne fai 68, può anche essere che con 68 ti qualifichi in Champions. Non è una questione di punti, è una questione di arrivare in Champions. Cioè, deve essere anche un motivo di orgoglio, deve essere anche una volontà di far vedere qualcosa, cioè deve esserci qualcosa di più rispetto ai punti, ragazzi. Sennò non... Davvero, sennò è televideo. Stop. In questi periodi di difficoltà che ci sono, c'è sicuramente una crescita di squadra, singolarmente e come squadra. Insomma, questa crescita in questo momento non la vedo, però vabbè. Lazio, rivoluzione sull'allenatore. Si può fare un cambio così netto tra Sarri e Tudor in solo due settimane? E Tudor è stato un candidato per il post Allegri. Le sensazioni? Allegri dice, Tudor ha fatto molto bene a Marsiglia a Verona. Proveremo una Lazio differente rispetto a quella di Sarri. Non so se due settimane bastano, il calcio è difficile o impossibile da spiegare. Dobbiamo affrontare la Lazio sapendo che sono una squadra già mentalmente pronta a fare una partita aggressiva. Il cambio dell'allenatore attrita sempre qualcosa in più. Vediamo. Oltre a questa è una squadra con giocatori importanti, come Luiz Alberto, Immobile, Zaccagni, Filippe Anderson e Vecino. Tutti con grande qualità e soluzioni offensive importanti. Non solo. Io penso anche che il Tati Castigliano possa essere un giocatore che possa darci noia. Il trequartista che viene dalla Germania, ora mi sfugge il nome asiatico, è un altro giocatore che non aveva trovato spazio in questa stagione perché la Lastia non giocava col trequartista. Io credo che Tudor domani arriverà a giocare con due mezze punte dietro la punta. Non so se Immobile o Castellano, se non ho idea. Mi piacerebbe anche capire se saranno Zaccagni, Filippe Anderson oppure se verrà alzato Luiz Alberto, se a centrocampo andranno con Guendusi Cataldi. Da quanto ho capito Guendusi a Marsiglia ha fatto anche il trequartista con Tudor. Quindi ci sono tante soluzioni importanti sulla Lazio. Mi piacerebbe capire come andranno a impostare gli esterni perché non mi sembra che sugli esterni dei quinti la Lazio abbia chissà che cosa. Dietro dovrebbe andare con Ghila, con Casale e Romagnoli. Boh, non lo so, può essere un'idea questa roba qui. Però ci sono tanti punti interrogativi oggi sulla Lazio di Tudor. È molto difficile preparare una partita oggi con la Lazio di Tudor perché non sai a cosa aggrapparti. È veramente un inedito. Si cambia il modulo, si cambia la mentalità, si cambiano i compiti, si cambia leggere archie dei giocatori, si cambia tutto. Quindi oggi non ho idea, veramente non ho idea di quale potrebbe essere una strategia importante per vincere la partita. L'unica cosa che mi sento ridire è quella che dicevo all'inizio. Se non vai in campo con la loro aggressività, se non vai aggressivo come loro, ti mangiano in testa. Questa è l'unica cosa di cui sono abbastanza certo, poi è il campo che ci darà la risposta. Però se non fai una partita offensiva, aggressiva, temo che i tre punti dall'Olimpico di Roma non usciranno. Cambia secondo, terzo o quarto posto? Anche qui domanda provocatoria, ma interessante. Allegri dà una risposta politichese, ma corretta. Il nostro obiettivo è ottenere sempre il massimo. Più punti possibili servono per invertire il girone di ritorno. Da questo dobbiamo essere realisti e prenderne atto. Ci sono 27 punti a disposizione e farne il più possibile. Questa deve essere la linea da inizio stagione. E questa è la risposta corretta, da inizio stagione. Invece che parlare di obiettivo e entrare in Champions, dobbiamo fare il massimo possibile a disposizione. Ci sono 38 per 3, sono 100 e rotti, non so neanche quanto, punti a disposizione dobbiamo fare il più possibile. Poi vediamo dove arriviamo. Questa era la linea comunicativa giusta dal giorno zero. Iniziamo a tenerla dal giorno 9, meno 9, 9 giornate di campionato? Eh va bene, meglio tardi che mai. Questa era la linea comunicativa corretta. Le parole di Scanavino mi hanno fatto piacere, assolutamente sì. Rappresenta la squadra e la società. Le critiche quando ci sono questi momenti vanno accettate. Vanno accettate sempre, ma in questo momento ancora di più. Oh, manuale. Nel calcio se vinci sei un bravo ragazzo e se perdi, eh, non so io cosa sei. Contano i risultati. Noi non stiamo facendo risultati. Sono stati bravi i ragazzi a fare nel giorno in andata. Nel ritorno stiamo facendo non bene, finalmente presa di consapevolezza del momento negativo. 13 punti sono pochi. Il calcio ti dà la possibilità di rovesciare questo momento negativo. Quello che è tutto nero oggi può essere bianco domani. Dobbiamo lavorare per invertire il trend senza risultati. Abbiamo un obiettivo troppo importante da raggiungere. La Juventus l'anno prossimo dovrà giocare la Champions. Abbiamo il Mondialito, dice. Mondialito molto bello, mi dà la sensazione di quando si giocava da bambini per strada. Il Mondialito per club e questo fa sì che sia uno stimolo talmente importante che non ci deve sfuggire l'obiettivo. Questo è il termine della conferenza stampa di oggi di Massimiliano Allegri. Io credo che ci siano stati tanti spunti interessanti che abbiamo trattato. Quelli che non sono stati trattati nella conferenza, quindi la Lazio di Tudor, ve li chiedo a voi, semplicemente. Vi dico che ne abbiamo parlato anche ieri su Bobo TV Channel e dovrebbe essere uscito o uscirà a breve il video riepilogativo di quella che è stata la puntata ieri dove si parlava anche tanto della Lazio di Tudor perché io ho tanta curiosità della Lazio di Tudor. Fatemi sapere la vostra qui sotto, fatemi sapere secondo voi come giocherà la Juve dal punto di vista di formazione, come giocherà la Lazio dal punto di vista di formazione e se siete d'accordo con me che se non entri in campo al 100% dal punto di vista dell'aggressività, Tudor ti mangia in testa per non dire altro, per non dire altro. Ultima ma non ultima, fatemi sapere se anche voi quel tic nervoso dell'Egre l'avete percepito oppure no o se sono diventato matto io. Io come al solito vi ringrazio, se siete arrivati fino a qua siete i numeri uno perché una ventina di minuti di bla 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 è veramente pesante però io solitamente quando ascolto anche video di altre persone che fanno YouTube, non lo so, mentre lavo i piatti o mentre rifaccio il letto, robe del genere o semplicemente mentre sono al computer a fare altri lavori lo faccio volentieri, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi a questo canale perché ragazzi a maggio saranno dieci anni dall'apertura di questo canale YouTube e per permettere a questo video di essere sempre più diffuso vi invito a lasciare anche un mi piace perché l'algoritmo di YouTube lavora in questo modo, se sento un mi piace e dice ah questo video allora è piaciuto a lui, chissà potrebbe piacere anche a un'altra persona e questo andrà a contribuire ad allargare la community. Come ho detto in apertura e come sto dicendo la settimana, ragazzi il mantra è uno solo da qui alla fine della stagione e anche oltre ovviamente. Forza Juventus! Ciao!